E' costata 850.000 euro, è stata completata già da qualche anno ma non riesce ad aprire per mancanza di accreditamento. Parliamo della comunità socioeducativa per minori realizzata in via Taraschi a Teramo, una struttura di proprietà dell'azienda servizia alla persona della provincia di Teramo, ex IPAB, finanziata dalla Regione Abruzzo, dalla Fondazione Tercas e dall'Istituto Ventili. Una volta operativa potrà accogliere minori in difficoltà in un centro di urno e avrà a disposizione anche una parte residenziale di 15 stanze già perfettamente arredate. Questa struttura di via Taraschi è importantissima per i minori, se ne parla da tanto tempo, speriamo che presto parta. Il CDA ha già avviato le procedure e la dottoressa Di Domenico, direttore generale, sta già procedendo a mettere giù un bando per l'affidamento. Ci tenevamo in qualche modo a rimarcare la volontà del Consiglio di amministrazione di attivare anche quelle strutture che sono state completate già da qualche anno, nel 2011, e che però non hanno avuto per vari motivi la possibilità di essere attivate e soprattutto perché andiamo ad operare in un settore che è quello materno-infantile, come l'ASPO, quello che riguarda gli anziani, come crudicità, disabilità, che gioco forza nella società di oggi ma in quella di domani avrà sempre più maggiore richiesta. La comunità socioeducativa per minore di via Taraschi a Teramo, che è stata finanziata negli anni con grandi risorse in modo congiunto dalla Regione e dalla Fondazione, è rimasta per lungo tempo inattiva. Con l'impegno però, impegno oggi morale, che l'ASPO, proprietaria dei locali e la Regione Abruzzo prenderà, di utilizzare i locali stessi in un brevissimo periodo di tempo, quindi dopo l'anno scolastico, per la finalità per la quale era stata finanziata. Insieme alla futura comunità socioeducativa per minori dell'ASPO di Teramo, in via Taraschi ha trovato finalmente casa anche l'Istituto Musicale Braga, un'istituzione teramana antica e prestigiosa. L'Istituto Braga ha finalmente trovato casa in via Taraschi? Finalmente sì. Era ora perché la città credo che debba darci atto di aver avuto una grande tigna per questo rinascimento del Braga. Io vorrei solo ricordare che un anno fa eravamo veramente distrutti e adesso nonostante un terremoto che ci ha bombardato e ci ha distrutto siamo riusciti a trovare questo sito, questo plesso teramano centrale che devo dire veramente ci ha messo le ali. Grazie a tutti.